Sai, rientriamo da questa tremenda baracca e insomma è la speranza, in fondo qualcosa si era fatto nel senso di, perlomeno si sentivamo puliti nel senso che avevamo lavorato dentro la storia, avevamo arrivato dentro la verità, la verità è sempre una relativa sotto un certo aspetto, però era in quel momento tutta la verità e continua ad essere la resistenza, la verità.